Buongiorno, bentrovati, salve a tutti e benvenuti a questo appuntamento quotidiano con l'informazione Occhio ai giornali puntualmente tutte le mattine alle 7.30 qui su Fano TV, canale 17 ma a segna stampa visibile anche online Potete vederli sui nostri device e quindi seguirci ovunque voi siate Noi facciamo sempre però un escursus anche sul calendario e guardiamo anche le previsioni del tempo Quindi direi spazio alla grafica che ci dice subito che per venerdì 10 maggio è San Giovanni d'Avila Il sole è sorto alle 5.48 e tramonterà alle 20.22 Guardiamo le previsioni del tempo che almeno per oggi sono all'insegna del bel tempo Perlomeno sulla costa ma poi vedrete che nel corso del fine settimana ahimè purtroppo peggioreranno Quindi per oggi cielo sereno, poco nuvoloso, addensamenti nelle ore pomeridiane però prevalentemente sui rilievi Nessuna precipitazione all'orizzonte, vedete la costa è a sole pieno Però domani già c'è un cambio di clima e anche di temperature Sereno, poco nuvoloso però aumento della copertura a partire dal pomeriggio Per l'ingresso di una perturbazione proveniente dai Valcani In serata poi ci sarà proprio il fronte freddo che arriverà sul nostro quadrante Quindi possibilità di precipitazioni, brevi fiovaschi nel pomeriggio Però principalmente nelle zone interne Le temperature sono in aumento in particolare nei minimi Mente stazionarie nei massimi Domenica invece è proprio almeno sulla carta Almeno per quello che ci dice la protezione civile Un giorno ribilis perché vedete cielo molto nuvoloso Nubi molto grigie, molto scure Pioggia su tutta la regione anche a carattere di rovescio e di temporale Che però almeno sulla carta ripeto Andranno a sminuire nel corso del fine della giornata Le temperature sono impicchiate in diminuzione Nei valori sia massimi che minimi L'inizio della prossima settimana Probabilmente ci sarà tempo perturbato anche fino a metà settimana Insomma quindi domenica ci sarà l'ingresso di questo fronte freddo Che ci accompagnerà anche per l'inizio della settimana Bene, guardiamo i giornali Vi porto subito nelle pagine di apertura Firruggi naturalmente la visita del vicepremier Quindi di Salvini a Pesaro e a Fano Ma anche tante altre notizie Soprattutto anche di cronaca Vediamo l'apertura del resto del Carlino Salvini questura entro due anni Tour a Pesaro e Fano del ministro Anche tra qualche contestazione Ma poi a centropagina foto notizia Per il reddito di cittadinanza E questa cittadina che mostra la sua tessera E dice questa è un'elemosina Perché è arrivato il reddito di cittadinanza Per lei alla modica cifra di 69 euro al mese E esprime tutta la sua rabbia di disoccupata E poi a Urbino Proprio in virtù dei candidati Che litigano anche sui morti Non lasciano indietro niente E poi dicevo c'è cronaca picchiato a sangue dal branco Questo siamo a Fano Andiamo a vedere la pagina di apertura Invece del Corriere Adriatico Lega, boom C'è un sondaggio della Tecne Per il Corriere Adriatico A due settimane dall'Election Day Si parla di Europee in questo caso Lega fa il boom Invece crisi di PD e Movimento 5 Stelle Così voteranno le Marche Dopo nelle pagine interne Sono sciorinati tutti i numeri della questione Nella fotonotizia invece si parla Di strada San Nicola Dieci anni di Odissea Strada San Nicola Tra l'altro è anche la strada Dove si è consumato la tragedia di Pasquetta Con il tentativo di accoltellamento Da parte di Cicerchi alla sua ex Questa è proprio quella che vedete qui In questa fotonotizia La barriera che l'auto di Cicerchi Ha abbattuto nel tentativo di investire Sia la sua ex che il suo salvatore Queste qui sono nella foto del Corriere Adriatico Proprio le tracce del pneumatico Della macchina di Cicerchi Però in questo caso si parla della frana Perché è una frana Questa strada è chiusa Perché collega questa parte Della panoramica con Pesaro Prendendo questa strada che c'è qui Che ormai è invasa dai rovi Si sbucca davanti all'ospedale di Muraglia Questa frana è lì da dieci anni Rimane ancora chiusa E i residenti protestano il comune Però pensa ad una soluzione E quindi la vediamo Eccola qua Odissea Dieci anni ce ne siamo occupati anche noi Dopo questa frana Le famiglie protestavano appunto Per questa frana Rimasta lì con le quattro frecce Per tanto tempo Un disagio senza fine E quindi speriamo che adesso Anche in virtù dell'episodio di Pasquetta Si trovi questa soluzione Da parte del comune Per sbloccare Tra l'altro poi è una strada Immersa nel verde Quindi era anche un posto Ci dicevano Insomma i titolari di un agriturismo Lì vicino veniva utilizzata Anche per fare delle passeggiate Insomma adesso invece è diventato Un ricettacolo di animali e di erbacce Sempre a Pesaro Rimaniamo con il Corriere Adriatico Decisione sul rondò di largo Tremartini Resterà per ora in stand by Però diventerà stabile La rotatoria invece tra Via Gagarin E San Marino Quindi si parla di viabilità Eccolo qua il sondaggio Di cui vi parlavo prima Sondaggio sulle europee La Lega si attesta al 28% Movimento 5 Stelle 25% Il PD va giù dal 45% al 23% Europee nelle Marche Rilevamento Tecne E qui vedete ci sono tutti i numeri Come si andrà al voto E questo è il countdown Meno 16 giorni al voto E qui c'è la suddivisione dei flussi Alle elezioni anche politiche E in quanti andranno a votare Per ora dice il Corriere Adriatico Resta in testa chi la spara più grossa E continuiamo nelle pagine Eccolo qua l'articolo che riguarda La visita nelle Marche di Salvini Con una piazza di Pesaro Che non ha avuto paura della pioggia Anche se qualche goccia è venuta giù Foto di rito Ma piazze blindate Sia a Fano che a Pesaro Per il tour E il quale promette Entro due anni La nuova questura La sicurezza naturalmente È stata una delle domande Più frequenti che gli hanno fatto Proprio in virtù del rincalzo Anche del personale Di cui ha bisogno Sia il commissariato di Fano Che anche la questura Per via dei pensionamenti Insomma quindi La questione di sicurezza È stata una delle cose Delle prime domande Che gli sono state fatte Risponde dal palco Anche alle contestazioni Il Salvini E poi a Fano Ha fatto visita Si è incontrato A bordo palco Con la madre di Benedetta E il fratello Benedetta Vitali Una delle vittime Della tragedia Di Corinaldo La venuta del tour Di Salvini Viene affrontata Anche dal resto Del Carlino Nuova questura Appunto E 50 uomini In più Questa è la promessa Del ministro Ne ho appena Parlato Con questore E prefetto Anche qui vedete Foto Delle piazze Che naturalmente Questa è quella Di Fano E questa è quella Di Pesaro Dopo la pioggia E anche spuntato Il sole A Fano Fa vedere Anche 300 T-shirt E anche lì È scattata La trappola Selfie Due ragazze Si baciano Uno tenta Addirittura Di baciare Lui E poi Questo è stato L'incontro Del ministro Con i genitori Di Benedetta Vitali E ha detto Proprio testuali parole Anche a noi Sono i cronisti Che eravamo lì Su Corinaldo Spero Indagini Il più rapide Possibile Anzi ha preso Proprio un impegno Personale Di far sì Che tutto Abbia un'accelerazione In avanti Reddito di cittadinanza Dalla fotonotizia Del resto Del Carlino Questa ragazza Che vedete Nel tondo Che mostra La sua tesserina Reddito di cittadinanza È arrivato Per lei Però solo A 69 euro Una disoccupata Fanese A carico della madre Gli tocca Una miseria Naturalmente Sono scattate Le proteste Poco più di 10 euro Al giorno In due Prima e dopo Il reddito di cittadinanza E la capacità di spesa Del loro nucleo Familiare È passata Da quasi 22 euro Al giorno A poco più Di 24 E poi Insomma Spiegate un po' Anche le ragioni Di queste cifre Questo sussidio Però non è Uguale Per tutti Solo uno Su cinque Andrà a percepire 780 euro Essendo un contributo Alle proprie risorse Che varia E questo è Il discriminante Varia In base All'ISEE E questo Determina La cifra Sapete Che naturalmente È stata Lanciata Una guerra Alla cannabis Da parte del Ministro E sui coffee shop Nelle marche Affermo Ne sono stati Chiusi Due Anzi tre E quindi In onore del ministro Però A Pesaro Questo titolare Di coffee shop Offre Canapa Scontata Nel negoziante Lancia Provocatoriamente Una vendita In saldo E dice Dal vicepremie Però Arrivano parole Senza senso E vedete qui La foto Di lui Ritratto Nel suo Esercizio Commerciale Andiamo a Fano Rimaniamo Nelle pagine Del resto Del carlino Rissa Fuori dalla discoteca Sangue E feriti Un albanese Aggredito Da un gruppo Dell'est Compugna il volto Dopo Un litigio Alla discoteca Mom Nella zona Dell'ex Zuccherificio Tutto questo È avvenuto Il branco Lo ha atteso Una zona Poco Illuminata E insomma Ha aggredito Questo Questo ragazzo E che è stato Costretto a ricorrere Alle cure Del pronto Soccorso Terme di Carignano Ecco Mancavano Gli arabi In questa Vicenda E adesso Spuntano anche loro Contatti con Studio legale Barbieri Di Pesero L'area All'asta A prezzi Stracciati Ma intanto Qualcuno Se ne sarà Accorto Se fa Un giro In Sassonia È partito Il ripascimento Della renina E delle spiagge Prelevata già Ghiaia dal fiume I lavori Per 50 mila euro A Sassonia Sono partiti Per ripianare Lo scalone Che si è creato Con le mareggiate Invernali Cambiamo testata Andiamo nel Corriere Adriatico Per quello che riguardano Le pagine di Fano Presto Il commissario Straordinario Per ultimare La galleria Della Guinza La senatrice Accorto Rilancia Le parole Del ministro Toninelli Fano Grosseto È una priorità Del governo Ancora Nelle pagine Di Fano Viale Gramsci Vietato Alle auto Torna La domenica Da giocare La prossima La domenica prossima Quindi veicoli Vietati Fin dalle nove Del mattino Vedete qui Un'immagine Della passata Edizione Il tutto Si chiuderà Alle 20 Quindi insomma I bambini Diventeranno I titolari E i protagonisti Naturalmente Di Viale Gramsci Con i loro giochi Con le loro manifestazioni Colorate Con il loro Vociare allegro Vallefoglia Mostra del libro Un affare Per ragazzi La 42esima edizione Si fa Alla palafoglia Da domani 18 maggio Con un tema Molto attuale La differenza Tra sostanza E apparenza Contriamo Nelle pagine Nelle nostre Vallate Andiamo a Fossombrone Per una bellissima Manifestazione Che piace Tantissimo Anno per anno Cresce di Afflusso E di frequentazione Ma cresce anche Di proposta Giochi Giochi storici Il palio E le sfilate Da oggi È trionfo Del carnevale Con un corteo In costume storico Veramente imponente Giochi Di stampo Così Corsa L'anello Nel campaccio Nel campaccio Quello che è un po' Il parcheggio Principale Adiacente Al corso Naturalmente Quindi ci si dividerà Tra corso E campaccio Con tante proposte Anche di carattere Gastronomico Quindi si mangerà Una full immersion Nel passato Con ricette Rigorosamente A tema Dalla Valcesano Tariffe Del servizio Idrico Siamo a Mondolfo Stamattina L'assemblea Dei sindici Di auto Bocciate Il bilancio Ato Non convincono Le modifiche Alle tariffe Al sistema Del natunamento Conteggio Idrico Ancora Nelle pagine Che riguardano L'interno Siamo Sempre a Valcesano Però a Marotta Protezione civile Ha trovato Finalmente Casa E quindi E lancia Il primo Corso Formativo Il suo Dalizio Marotta Mondolfo Fa di Bruno Conta già Trenta Soci Ed è in Piena Attività E poi Vi segnalo Questa bella Iniziativa In nome di Sara Bracci La sommelier Purtroppo Tragicamente Scomparsa A seguito Di un brutto Incidente Stradale La staffetta Del Bianchello Del Bianchello Fa tappa A San Costanzo Ospita Della Cantina Bruscia E' uno dei Ponti di riferimento Proprio Di questa Di questa Staffetta Ancora Nelle pagine Che riguardano Però Urbino Si parla Di politica E Anche Il caro Estinto Entra Nella Competizione E nella Dialettica Elettorale Gambini Un autogol Sui morti Calo demografico Dice Ho un piano Il candidato Sindaco Dem Rosati Dice Con ingenti Investimenti Creeremo Città Generativa Questa E' L'apertura Della pagina Di Urbino Del Corriere Adriatico Questa invece Quella del Resto Del Carlino Anche qui Scontro Politico Sui morti Gambini Dice In passato Anagrefe Non aggiornata Londèi E Rosati Gli dicono Ma cosa stai dicendo E questo è tutto Per oggi Per stamattina Grazie per essere stati In nostra compagnia Queste erano le notizie principali Che vi proponevamo Per la giornata di oggi Ma ce ne sono tante Tante altre All'interno dei giornali Per noi E' tutto Grazie E un saluto anche a coloro Che ci seguono In replica Nel corso della mattinata Fino a 1.30 Questo è il numero In sovrimpressione Che potete utilizzare Per entrare in contatto Con la nostra redazione Grazie E buona giornata A tutti voi Grazie a tutti